Buongiorno prof, questo è un esperimento facoltativo in cui dimostreremo la dilatazione termica. Per prima cosa, cosa è la dilatazione termica? La dilatazione termica è un fenomeno fisico per cui a una determinata temperatura un corpo in tutti e tre gli stati di aggregazione può aumentare di volume. Cosa ci serve per dimostrare la dilatazione termica? Un tondino di ferro fissato con questo apparecchio e uno strumento che ha una grande sensibilità, infatti misura i centesimi di millimetro. Con un puntatore laser andiamo a misurare la temperatura del tondino. 18.3 gradi di centigatri della scala Celsius. Adesso con la fiamma ossidrica andiamo a risalgare. Come potete vedere, aumentando il volume, precisamente aumentando di 20-100. 20 centesimi di millimetro. Musica di temperatura. Adesso possiamo, adesso non prendere la temperatura. E viene fuori 86.8 centigradi. Con questo dimostriamo che se aumentiamo il calore di un corpo, la temperatura di un corpo, questo aumenterà di volume. è un po' di 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 un po' di